Grazie 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 così, fatta a caso, ma studiata, ragionata, perché doveva avere un filo conduttore, anche il titolo, però ad esempio avevo pensato ad un altro titolo, ma in me già era presente su internet questo titolo, quindi l'ho tolto, e forse la cosa più bella è sempre prendere un titolo, un verso da una tua poesia, infatti il titolo è un verso della mia poesia. E quindi sicuramente quando certe situazioni le hai vissute direttamente o indirettamente, o ascoltato, perché comunque vivendo in una comunità, e noi siamo una comunità, perché la solidarietà e la speranza ce la dobbiamo costruire noi stessi e non gli altri, non possono costruircela gli altri. E ce ne sono ritrovata a scrivere, naturalmente a rimaneggiare, a pensarci tanto, perché per me ogni parola è preziosa, è preziosa e deve essere e stare lì presente, in quella poesia, è in quel verso. C'è tanta ricerca, c'è tanta ricerca su questo, ma su tutti i militari, quindi non... Ah no, sicuramente non erano fatti a casa con i miei precedenti, però questo mi sembra... Sì, questo è il primo ad impegno civile, quindi infatti sta riscuotendo successo a livello di recensione che ne arrivano, perché veramente reclude tanta attualità, che sembrano, cioè tematiche passate ma sempre attuali, sempre attuali, e comunque l'uomo non può... È vero, mi ha dato l'avventura, tanti punti, non lo so, ma... Eh sì, specialmente su determinate sezioni, quelle vittime di mafia che arriva dalla Sicilia, che si porta indietro, insomma, ora la mafia è anche qui al nord, quindi... Quindi siamo stati veramente famocitati e mi sono messa lì veramente perché ci vuole un pensiero, un pensiero molto forte e potente per... diciamo... A scrivere, ti deve scuotere tantissimo, ti deve scuotere e devo scuotere il pensiero, il pensiero è fondamentale. Quindi perché, come si diceva all'inizio, subentra poi l'indifferenza. Noi quando è scoppiata la guerra russa-ucraina eravamo tutti sconvolti, ma ora ci stiamo dimenticando, ci stiamo dimenticando, sta passando, diciamo così, attraverso la nostra indifferenza. Ma non perché non siamo indifferenti, ma perché l'aggiornamento, l'aggiornamento, l'aggiornamento è provocato nel dimenticatorio. E quindi, perché poi ci sono altri eventi, ma non dobbiamo abituarci perché la cosa è perché subentra l'abitudine poi a questo. E infatti la prima sezione, io non ho detto guerra contro la guerra, pace. Ho aperto il libro con la poesia pace. No, infatti sono comunque volte costruito, con un filologico perfetto, anzi, una bella padronanza anche della parola perché riuscire a scrivere e raccontare determinanti fatti che non sono belli e riuscire a mettere comunque con un lato positivo e ordinale. Non è semplice, non è da tutto. Poi ti dicevo che mi sembra più maturo, rispetto agli altri, non perché... No, è completamente diverso. Perché ci parliamo di associazioni e impostazioni. L'ho voluto anche perché è giusto, perché prima ero concentrato sul mio io lirico. Pian piano, pian piano, sono passato e poi a noi, alla società, allo sguardo sociale. Ma bisogna maturare questo, diciamo, sguardo sulla società e trattare con coraggio perché ci vuole coraggio a denunciare, a denunciare questi fatti. Quindi non... ed è per questo che sto dicendo apprezzamenti perché da tempo che non si vede... Cioè, ci possono essere all'interno di un libro uno, due, tre poesie che possono avere... ma un libro così... Cioè, tutto il libro... Cioè, tutto il libro... ...un libro uno, due, tre poesie che possono avere... Cioè, facendomi anche ai titoli degli altri libri, la tematica e il tempo per me è sempre importante. E come lo usiamo questo tempo? E come lo usiamo? Quindi lo usiamo anche contro noi stessi. Contro noi stessi. La disumanità. Soprattutto questo libro quanto noi stessi fatti. Penso che tempo e indifferenza sono fuori le due parole chiave di tutto il... Infatti, anche la grafica che ha dovuto, diciamo, realizzare, il mio amico Lugani ci ha lavorato su tanto perché bisogna leggere le poesie. Poi io volevo che venissero racchiuse tutte le magiche. E ci è riuscito, ci è riuscito perché parlando di guerra abbiamo il sangue, il sangue quindi del cuore. Poi di voci di donna, la donna, poi di migrazione, le onde, il mare. Poi la natura perché comunque l'uomo, l'essere umano è parte integrante dell'universo, della natura e così ci sono rappresentate. Questo è tutto. Quindi è stato studiato questo libro di inventare. Poi tu hai appena accennato l'indifferenza. Allora, le indifferenze sicuramente, e alcune poesie sono state dedicate alla Shoah, che poi tradotte pure anche in inglese. Io ho qui mia figlia. Vuoi venire a leggere almeno quelle in inglese perché quando è stato detto in più lingue però... In lingue proprio con l'obiettivo sentire. Sì, ecco, magari guardiamo se vedi a leggere quella in inglese. Quella è il treno che sono andata, quindi che è già stata lenta. E' questa. Grazie. Mi porta a fare la traduzione in ebraico, in spagnolo, in francese, in albanese, in tedesco, quindi solo una poesia. Sì, perché con la guerra, però non ho voluto far tradurre, perché anche mia figlia mi ha tradotto l'altra poesia, del lino di fuochi, solo in inglese, perché ormai l'inglese, se ci vuoi leggere anche del lino di fuochi, che è stata letta, prego. Grazie. Ho piaciuto moltissimo questa introduzione e ho capito la bellezza di questo libro, in quanto è proprio studiato bene. Ma questa poesia in inglese è traducibile lì in italiano? Sì, ha letto lì. Vabbè, te l'ha detto. Ho detto la poesia, poi ho detto il tradotto. Però la metto io in italiano. È un italiano bella così. Sì, bravo. Comunque c'è differenza tra l'inglese e l'italiano, anche il modo di leggere, perché la lingua è diversa. Certo, certo. È l'unica datata su questo libro. Perché io non metto le date, però a battita sotto le ho. Infatti risalita una nel 2013, però sono state scritte, anche nel 2014, quasi tutte quelle della Shoah. Perché io mi sono recata... Allora, ho conosciuto Liliana Segre e quando c'è stata l'inaugurazione del binario 21 mi ha invitata e io e la mia famiglia, e anche mia figlia, non anche la mamma e lei, erano presenti. Perché i posti erano con più, una cinquantina, e mi ha detto venga presto, venga presto, perché altrimenti... E infatti ho un po' di freddo, è il 27 gennaio, quindi tutto in parte, alla piaccia lì. E siamo riusciti, e di questo me lo porto del cuore, perché siamo stati i primi, si può dire, a visitare il binario 21. Io l'ho conosciuta, mi ha raccomandato tante cose, sono stata pure a casa sua, ora non è più possibile, perché viaggia sotto scorta, l'avevo chiamata a casa, ma mi ha risposto prima, dicendo, la camminiera, e poi la scorta, dicendomi, ma ho avuto modo di relazionarmi con la mele istituzionale, quindi non... di questo, veramente, cioè, me ne vanto perché è stato molto, cioè, mi porto dentro questo ricordo. Ci siamo visti poi l'ultima volta, quando ha presentato il suo penultimo libro, a Somma Lombardo, mi fa, mi venga a trovare, però dico, se non si può, come faccio? Allora, prima leggo Delirio di fuochi, seduta comoda sul divano, da un piccolo schermo guardo bombardamenti, carri armati, lanciarazzi, delirio di fuochi sulla terra, non è cinematografia, non è esagerazione, non è spettacolo, non è fissione, è una diretta, una diretta di immagini agghiaccianti, scena di una tragedia antica, la tragedia della guerra, 24 febbraio del 1922. Mi ricordo che era stata una figlia di mia mamma, mamma, guarda, guarda cosa è successo, guarda, e io subito ho aperto il cellulare, invece ora, quella, treno di solo andata, molto bravo, grazie, a Ligia da Segre, un'altra l'avevo dedicata, che era presente nel secondo libro, l'avevo rete volte, ma non c'era la dedica, perché io nei primi tre non ho dedicato, ce ne ho messo la dedica a nessuno, invece questo, sì, quindi è una, ma nemmeno è una, perché già avevo titolato quella poesia con un nome, una dedica a me mi pote, queste invece, in queste poesie ci sono tante dediche, perché mi sembrava giusto e opportuno sottolineare, sottolineare, sottolineando la motivazione. Ma quello che ho seguito io, nel riscrivere le mie impressioni, che avevate fatto in sei capitoli, così si, hai sezionato le sezioni. Treno di solo andata, all'Inera Segre, come animali indabbiati, molti non vedono più la luce, ad altri aprono cancetti. La storia, l'incubo, l'inverosimile, racconta con gente, indelebile ricordo dei sogni spezzati, della vita piegata. Numero inciso, diventa l'inverosimile, per sezionare. Allora, quando quest'aneddoto sull'Inera Segre, perché io quando andai a trovarla, mi feci accomodare, gentilissima, per invitarla, allora insegniamo questo assizio, per invitarla a parlare agli studenti. e mi dice subito, mi disse, va bene, le farò sapere. Poi ci siamo messi a parlare di cose femminili, di cosa si facevano in agra, di tutto quanto. Mi accompagnò alla porta e mi disse, ho deciso di venire. Dunque mi scusi, non doveva pensarci, come mai ho avuto qui sull'uscio e siamo rientrati. Mi fa perché lei è stata la prima, la prima persona che non mi ha chiesto di vedere il numero sul braccio. No, 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 no. Mi scusi, come la prima? Tutti gli altri? Mi faccio vedere. Mi faccio vedere. Dico, io non non me lo sono mai ma dicendo, ho mai posto in prove, cioè per me non esisteva. ad alcuni quando potevo dicevo di no. Nel senso anche l'invito declinava. Perché tu cosa vuoi vedere? Ad altri non potevo, quindi è stato veramente terribile questa constatazione di una donna che deve mostrare. Infatti quel numero inciso rimane nome perché per il loro numero era diventato un nome. certo quindi non è solo diventare un nome. Un nome è no. Perché è per questo infatti al binario 21 che c'è scritto l'indifferenza quindi non è in quanto a questo mi permette solo di aggiungere che per il diaro seguiti avrebbe potuto cancellarlo quel numero perché con le tecniche di ladder lei ha scelto perché quel numero è diventato memoria la memoria è un momento evidente perché poi abbiamo visto anche il percorso istituzionale per fortuna e resta una traccia indirebile un po' per alcuni racconti che hai trasportato tu nel libro oggi ma riuscire a trasformare un fatto così grosso in poche righe concentrato in si io le sgrezi anche si 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 perché no 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 allora generalmente sono sintetica la sintesi è un humor si da sempre la caratteristica ma che qualcuno mi ha sempre detto ci sono persone che su scrivono romanzi tu invece concentri e solo con qualcuno sono riuscita perché avevo bisogno di dire la storia perché è la storia che parla però già in pochi versi tu racchiudi tutto con una disumanità che è stata perpetrata nei confronti degli ebrei ma avendo presentato i dati dovevi così via faccio gli denti faccio questi versi racchiudendo il gerco il gerco e spero la funzione qui mi sono trovato più a volte come una magia una domanda una cosa di signore e c'erano esigenze però ho aperto anche in quarta di copertina cioè ci si chiede e queste sono cose vissute personalmente e l'ho voluto ho aperto il libro con questa poesia e l'ho voluta sulla quarta di copertina perché uccidersi questo mi piace moltissimo perché uccidersi ricordo le tue paure di giovane combattente quando raccontavi gli anni di guerra e ti chiedevi perché uccidersi padre ancora oggi si uccide come allora e ti rivedo in groppa la mura portare profondo di menta e di rosa grazie 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 grazie